L'attrice Sofie Turner, che interpreta Sansa nel Trono di Spade, conferma la data di uscita dell'ultima stagione sono ormai passati quattro mesi dalla mesa in onda dell'ultima puntata della settima stagione di Game of Thrones, la serie tv fantasy prodotta dal canale televisivo HBO, ispirata ai romanzi Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco dello scrittore americano George Martin. Il canale televisivo HBO, così come i due showrunner David Benioff e D.B., Waze vogliono far soffrire tutti i fendi god, in quanto ci faranno attendere molto prima di mandare in onda gli episodi dell'ottava ed ultima stagione del Trono di Spade. Intanto, continuano le indiscrezioni, che prevederebbero la messa in onda dell'ottava stagione per il 2019, dunque a circa due anni di distanza dalla settima stagione terminata all'inizio del settembre passato e che già era in ritardo rispetto al solito, proprio per poter effettuare le riprese durante l'inverno e rendere ancor più realistico il tutto. Sofie Turner, Ilias Sansa Stark, conferma la data della messa in onda dell'ottava stagione di Gotha. Confermare il 2019 come data di rilascio dell'ottava ed ultima stagione del Trono di Spade è stata la splendida attrice britannica Sofie Turner, che interpreta nella serie TV Fantasy la protettrice del Nord Sansa Stark. La ventunenne avrebbe detto queste parole, durante un'intervista con Barietti, Game of Thrones, arriverà nel 2019, dunque, queste le dichiarazioni dell'attrice britannica mentre parlava anche dei suoi nuovi progetti in uscita, tra cui Diecimen Dark Phoenix. Evidentemente, gli attori del Trono di Spade, danno per certo un qualcosa che ancora non è del tutto ufficiale, però la Turner non è stata l'unica ad indicare il 2019 come data di uscita della serie. Infatti, mesi fa, il responsabile della programmazione HBO Casa e Bluys, aveva parlato anche lui del 2019 come data della messa in onda dell'ottava stagione di Gothico, però Bluys, affermò che soltanto quando i due showrunner avrebbero terminato la sceneggiatura e le riprese, avremmo potuto avere una data ufficiale di messa in onda della serie. Sophie Turner afferma che sarà dura lasciare Goth dopo otto stagioni il fatto, che quella che probabilmente andrà in onda fra due anni sarà l'ultima stagione di Game of Thrones, pesa un po' a tutti. L'attrice britannica Sophie Turner afferma che si sono emozionati tutti quando hanno ricevuto il copione e per il set della stagione finale, sono voluti tornare tutti gli attori di queste sette stagioni del trono di spade. La Turner afferma che adesso un po' tutti stanno iniziando a rendersi conto, che questa avventura sta giungendo al termine e quindi cercheranno di stare insieme più tempo possibile. Grazie. 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 Grazie.